Io ti ho presentato con queste parole perché connotano una grande umiltà, credi davvero che un errore o un limite siano un'opportunità? Assolutamente sì, a me terrorizza l'idea che nella vita si possa fare il percorso netto, non si possa mai sbagliare. Mi terrorizza il fatto che si possa essere consapevoli di tutti. Dostoevsky, che è uno dei miei due scrittori preferiti, l'altro è Borges, scriveva in Memorie del Sottosuolo che la consapevolezza è una trappola mortale. Perché la vita è fatta di tanti imprevisti, la vita è fatta di tante incognite, viva Dio, meno male che così, perché sennò perderemmo il senso della sorpresa che dà senso un po' alla vita. E quando ci capita di sbagliare, viva Dio, non succede alcunché. È una grande opportunità perché impariamo dai nostri errori. Se tutto va bene, difficilmente poi dinanzi a un pericolo reale di qualsiasi natura esso sia sapremmo come reagire. Invece gli errori e le difficoltà sono delle grandi opportunità. Grazie a tutti.